ciao a tutti oggi vi faccio vedere un esercizio che chiamo sforbiciate a quattro zampe è un esercizio propedeutico per arrivare al superman a quattro zampe un intermedio tra le sforbiciate il superman disteso si parte a quattro zampe le mani stanno sotto le spalle le ginocchia sotto il bacino la zona lombare neutra da qui porti in allungamento una gamba possibilmente tenendola orizzontale senza andare a imprimere rotazioni al bacino quindi controllando l'orizzontalità del bacino e cambio per quanto riguarda numero di ripetizioni tenute serie attenetevi a quanto vi dirà la vostra fisioterapista